Il Consorzio CEV opera come centrale di committenza e mette a disposizione dei soci un team dedicato alla consulenza in tema di contratti pubblici. Offre inoltre uno strumento telematico di negoziazione per gli acquisti centralizzati di forniture, lavori e servizi. Il servizio comprende un albo fornitori. Al momento sono iscritti 1973 operatori economici con differenti livelli di iscrizione. L'assistenza telefonica tramite uno staff qualificato che affianca gli enti nell'attività di redazione degli atti amministrativi di gara. Fornisce modelli standard e supporta gli stessi nell'utilizzo dello strumento e-procurement. Una piattaforma elettronica per lo svolgimento in autonomia o insieme ad altri comuni degli approvvigionamenti mediante procedure a dividenza pubblica sopra e sotto soglia comunitaria, in modo completamente informatizzato, così da garantire la tracciabilità di tutte le operazioni svolte. L'assistenza telefonica tramite uno staff qualificato che affianca gli enti e gli operatori economici nell'utilizzo della piattaforma elettronica. Alla luce delle entrate in vigore dell'articolo 40, codice e contratti pubblici, il consorzio CEV supporta i soci nell'adeguamento agli obblighi di legge, offrendo a tutti gli enti consorziati che ne fanno richiesta anche il solo utilizzo in autonomia della propria piattaforma elettronica, un sistema di e-procurement e un albo fornitore elettronico. Gli enti che ad oggi utilizzano il servizio sono 258.